ciao amici benvenuti nella nostra mansarda e oggi vi insegniamo come arredarla vero carlo ma come ti vesti ah cazzo quello è un altro programma questa è una bellissima scrivania tard 2000 in legno compensato fatta da scarpellini ikea e con sopra questo bellissimo porta cd e qui c'è una grande finestra da cui non si vede niente e questo è l'angolo del dolce riposo bene questi sono i nostri consigli sul come per diventare bella la vostra mansarda un saluto da francesca e dal suo belletto